Buongiorno, Piero Pio, Maria Adrioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è domenica 19 novembre 2023. Oggi voglio rispondere a una persona che ha parlato, ha detto di cercare di esprimermi meglio e praticamente accusa mia madre di spiritismo e questa signora che ha scritto quel messaggio solo perché ha firmato entità O. Ma ora vi voglio far vedere una cosa. Questa signora probabilmente, sì, io non so esprimermi bene perché sono un umile segretario d'azienda. Probabilmente lei ha la doppia laurea, è un intellettuale e quindi vuole, pretende che tutti quanti siano intelligenti quanto lei. Io non mi preoccupo di quello che ha detto lei, anche perché mia mamma è stata 18 anni vicino a Padre Pio. Nei momenti che è stato perseguitato mia mamma era sempre lì e non l'ha abbandonato, come hanno fatto in tanti. Ha avuto la fortuna di avere delle grazie, dei miracoli e quindi di spiritismo non c'è proprio nulla. I messaggi che lei scriveva, li scriveva come quando noi eravamo a scuola e dovevamo fare un tema ispirati su un argomento e scrivevamo praticamente pagine su pagine velocissimamente. Mia mamma scriveva 3-4 pagine con la penna rossa e poi vi spiego perché. E così come questa signora che ha scritto questa mia lettera con la penna rossa, dedicandomi diverse pagine, 10 pagine, che se fosse una scrittura automatica come dice lei col bicchiere, perché probabilmente sta pensando a quello, ci vorrebbe un'intera giornata e questa signora avrebbe dedicato un'intera giornata a me. Vi dicevo di mia madre che scriveva 3-4 pagine al giro di 30 secondi e fu proprio padre Pio a donargli quel dono e gli disse se lo farai per aiutare gli altri sarò io a scrivere. E adesso voglio anche leggervi uno scritto di mia madre per farvi vedere lo spiritismo di mia madre. Ecco qua. Ecco qua. Non datevi pensiero. Quando tutto è conforme alla volontà di Dio, non dobbiamo dubitare ma avere la certezza che mai ci mancherà l'aiuto dall'alto. Siate generosi nel bene, poiché Dio vuole così. Così facendo non avrete la preoccupazione di non anche la scrittura di mia madre è molto difficile che secondo i santi valori. Carlo preghi preghi molto accetti consentita 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 il Signore Dio nostro dispiace per lui quando prega quando ci si avvicina a Dio quando preghiamo quando ci si avvicina a Dio cibandoci del corpo suo ci atteniamo a vivere una vita benevola per essere ben accetta dal Signore. Restiamo tranquilli che non ci proverà di qualcosa che più ci sta a cuore ma ci darà oltre a quello che già abbiamo qualcosa di sovrappiù quindi non non si turbi e preghi l'Altissimo direi non turbatevi affidatevi a Dio il quale veglia su di voi e vi vuole perfetti amatevi l'un l'altro porgetevi la mano quando vi trovate nelle necessità vedete nel fratello vostro il vostro il volto del Cristo Gesù e perseverate nel bene che il Signore vi benedica tutti se si accetta come figli suoi che vi accetta come figli suoi figli fedeli che oltre ad essere voi stessi oggetto dell'amore di Dio lo estendiate anche a quelli che non che non sono che sono lontani sia lodato Gesù e Maria Padre Pio Cappuccino ecco questo è l'isoterismo lo spiritismo che Padre Pio appunto gli aveva detto se tu lo farai in fin di bene sarò io a scrivere fu proprio lui a dirgli quindi il problema non è l'aver studiato anzi è una fortuna aver studiato il problema è il giudizio purtroppo molti studiosi giudicano ecco quello è lo spiritismo di mia madre e questo è lo spiritismo di una donna che ha scritto dieci pagine vedete qui 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 ha dedicato praticamente tutta la giornata per me col bicchierino e la sua e l'esoterismo e adesso vi leggono vi leggo una piccola parte di quella lettera domenica 25 gennaio 87 pensate un po' il 25 gennaio era il compleanno della mamma rosa la mamma di Berlusconi quella che poi un giorno mi avrebbe trovato il lavoro definitivo guardate come sono le cose per il più il 25 gennaio è la conversione di San Paolo giorno della conversione di San Paolo ciao Piero tu non mi conosci ma io sì e conosco anche i tuoi problemi sei un bravo ragazzo ed io vorrei che in questa epoca di egoismo e superbia ce ne fossero molti come te tu sei preoccupato perché non riesci a capire che cosa devi fare vedete ero in un momento di stand by e praticamente non sapevo più cosa fare del mio futuro io non gli avevo detto niente a questa signora il tuo lavoro non ti piace le tue amicizie non ti piacciono vorresti ritrovare gli slanci di amore per Dio che provavi quando eri innocente fanciullo vedete io da bambino avevo la fortuna di comunicare con San Giuseppe ma il tempo passa si cresce e col crescere crescono e si trasformano anche i desideri ora sei un uomo e sempre più ti rendi conto di quanto sia difficile vivere nel mondo e restare puri e gioiosi la vita è una difficile scuola e la tua anima deve fare le sue esperienze pagina 2 vedere conoscere capire altra gente di te e una parte di te è attratta da ciò che la vita può offrirti vorresti un lavoro decoroso che soddisfi le tue ambizioni una compagna carina con la quale formare una famiglia e magari è una situazione finanziaria che ti permette di vivere nella giatezza ma un'altra parte di te sente un'attrazione per la vita tranquilla e di rinuncia di chi rinuncia volontariamente a tutto questo per stare più vicino a Dio vedi Piero io non posso certo dirti quale delle due strade sia la migliore per te vedete il libero arbitrio Dio lascia liberi ognuno di noi di scegliere la nostra strada ma ti può indicare quella più giusta ma posso aiutarti a capire quale delle due strade sia più adatta a te io vedo che potresti essere un buon marito e un buon padre fare una vita semplice ma viverla con tanto amore perché è bella la vita che Dio ci dà per provarla in tanti modi diversi per esempio per aiutare le persone che ti sono care con il conforto che la tua presenza può dare loro nei momenti difficili o incoraggiando un amico ad andare verso una vita più sana più pulita potresti dare l'esempio ad altri di come ci si possa sentire felice e soddisfatti senza vivere come dei forsennati che vanno sempre alla ricerca di cose proibite e pericolose tante bellissime cose potresti fare senza ritirarti dal mondo sacrificando un poco del tuo tempo per istruirti sul come diventare una luce per i tuoi fratelli meno fortunati che non possiedono la gioia di conoscere Dio e la sua bontà infinita per chi ama Dio con cuore sincero c'è tanto lavoro da fare nei suoi campi i suoi campi e dove si può incontrare gente che ha bisogno di un sorriso di una mano tesa di un confronto di un conforto dove si può dare agli altri un po' di gioia un po' di serenità Dio ha bisogno di operai Piero per lavorare nei suoi campi e non di una persona di persone che pensano a salvare soltanto la propria anima pensaci Piero di pensare solo alla propria anima e di giudicare tu soltanto puoi decidere della tua vita vedete sempre il libro arbitrio l'uomo ha ricevuto dal suo creatore la facoltà di scegliere come seguirlo puoi servire passivamente pregando e ritirandoti dalle lotte quotidiane oppure attivamente buttandoti nella mischia con coraggio sorretto dalla fede ed essere una luce nel buio dell'ignoranza di molti ma per far questo dovrai essere guidato da una mano sicura e accettare di conoscere meglio il mondo degli aiutatori invisibili e visibili il mio mondo quello di Padre Pio e di tantissime altre anime nobili che lavorano per il bene dell'umanità ognuno a suo modo e nella misura delle sue capacità che ne pensi ti tenta l'avventura ma puoi anche scegliere di rimanere come sei e di continuare a chiedere aiuto invece di tentare di darlo anche questo è possibile devi interrogare il tuo cuore e fare la tua scelta perché ora è il momento devi scegliere ora e di fatti tre mesi dopo conobi Luigi Gaspari e per questo motivo che sei tormentato dai dubbi e le incertezze la tua anima sa che devi scegliere una di queste strade in ognuna di esse puoi fare in modo che il Signore cammini al tuo fianco e porti ovunque e porti ovunque passa insieme a te pace amore gioia e conoscenza ecco questo sarebbe lo spiritismo di una lettera così sia dalla mia mamma e sia di questa donna che probabilmente è un angelo entità O è un angelo quindi cara signora prima di giudicare ci pensi un attimo perché padre Pio scacciava spesso dal confessionale coloro che giudicavano io non la giudico le dico di riflettere su quello che ha detto e poi le dico anche un'altra cosa mia mamma ha avuto la fortuna di vederla veramente la Madonna due volte la prima volta gli ha promesso che la seconda volta che l'avrebbe vista sarebbe perché l'avrebbe portata con sé la seconda volta la vide a febbraio del 2000 del 1998 tre mesi prima di morire e gli disse sono l'immacolata concezione e lei chiese alla Madonna di pensare ai propri figli e la Madonna gli rispose sì e io disse mia madre ma mamma la volta che hai visto la Madonna ti aveva detto che ti veniva a prendere e lei riuscì con un discorso da madre affettuosa ma no non ti preoccupare bene mia mamma è morta il 12 di maggio e il 13 di maggio gli hanno fatto il funerale lei lo sa sapete che giorno il 13 di maggio la festa della Madonna di Fatima mia mamma è stata vicino a Padre Pio 18 anni è stata guarita da un'infermità praticamente era inabile perché aveva il busto di gesso prima di ferro poi di gesso e Padre Pio toccandola la guarita mia madre ha avuto fior di miracoli e grazie da Padre Pio e mia madre con la sua preghiera ha risuscitato mia nonna il Signore gliel'ha ridata ancora per un anno con la testimonianza di Don Pio Mauro che ha detto cara Signora sua madre è risuscitata perché era morta per le sue preghiere senza paura senza vergogna davanti a tutti e tutti ridevano e sua madre è tornata a vivere ecco che era mia madre altro che spiritismo prima di parlare e di giudicare pensiamo che il giudizio spetta solo a Dio e adesso vi lascio però ricordandovi sempre del quaderno dell'amore libricino descritto nel libro dell'Apocalisse del Padre Pio profeta delle lettere di Luigi Gaspari che potete richiedere al numero di Whatsapp solo scritto perché non vi risponde nessuno vi mandate una richiesta scritta su quanti quaderni volete se volete Padre Pio profeta se volete le lettere di Luigi Gaspari che era il figlio spirituale prediletto di Padre Pio che ha scritto il quaderno dell'amore libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse dovete fare richiesta scritta a questo numero di Whatsapp 371 39 56 0 34 vi ricordo il mio libro Padre Pio il terzo segreto di Fatima che potete trovarlo in libreria ho visto in tutte le librerie praticamente si può richiedere su Amazon su ebay online oppure all'editore il segno e poi c'è sempre il libro della nostra amica chiedilo a Gesù editore Kimerich la Esther Madaloni che Luigi Gaspari gli è apparso nel 1999 in una mensa a San Giovanni Rotondo lei aveva il figlio malato ad un occhio e dopo aver parlato con un signore che era a questo tavolo che poi lei riconobbe quattro anni dopo con il quaderno dell'amore in mano che fosse Luigi Gaspari quattro anni dopo mi scusi scusate riconobbe dopo alcuni giorni che era appunto il Luigi Gaspari però era il 1999 quest'uomo al figlio gli disse che sarebbe guarito dall'occhio senza sapere che appunto era malato all'occhio e che sarebbe guarito e un giorno l'avrebbe rivisto e l'avrebbe riconosciuto perché Luigi Gaspari era Giovanni e Davide ed è anche Enoch aveva lo spirito di questi grandi profeti e essendo Giovanni è lui che ha scritto il quaderno dell'amore libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse questo bambino tornato a casa dopo alcuni giorni guarì senza bisogno di operazione e la Esther Maddaloni se voi andate su YouTube guardate Tele Molise e andate in televisione a testimoniare di questo miracolo che il Gaspari gli ha fatto nel 1999 quattro anni dopo che era morto perché lui è morto il 18 novembre del 1995 quindi questa donna l'ho visto quattro anni dopo cioè gli è apparso da morto e da santo che è quindi se voi volete anche richiedere la donna che parla soprattutto dell'apparizione di Luigi Gaspari e della guarigione del figlio Esther Liana Maddaloni chiedilo a Gesù casa editrice Chimerick ecco credo di aver detto tutto vi abbraccio e buona domenica a tutti che il Signore ci benedica grazie ecco qua cara Signora